ciao ragazze allora nuovo video what's my bag visto che nell'altro ho registrato un video sempre semplice normale non so quanto avrei registrato però ho registrato un nuovo video blog bar chiacchiericcio questo invece non vuoi dire sempre chiacchiericcio ma normale ovvero format diverso tipo what's my bag cosa c'è della mia borsa ho cambiato borsa non c'è di uti però ci sono altre cose più belle cioè quello che l'essenziale sarebbe l'importante questa è la mia borsa vedete me l'è e niente e mi ha regalato questa bella borsa con i due manici e più un manico o più un'altra colla questa è la tracolla sua questo perché non so dove l'abbia presa sta borsa però non so mai cosa l'ho riacquistata ma a me piace un botto vedete poi qua c'è la come dire la una marca che non so come si chiama miriade o miriade la conoscete voi miriade vedete ecco qui miriade eccola e niente questa è la borsa che vi faccio vedere un po allora questo qui e dove metto le chiavi che adesso non ci sono le chiavi di casa vedete non si vede niente perché non mi sta facendo vedere ben niente no non si vede aspettate un secondo che mi accosto questo è tra le mie chiavi di casa che ovviamente non vi sono eccole qua poi un altro scompartimento per non vi è fatto dentro c'è allora il mio porta occhiale della lucio eccolo qua come si può incontrare per ora lucio poi il mio pezzo la mia pezzetta per prendere gli occhiali telefoni e computer non più lo spruzzino eccolo qua uno spruzzino che va a me ci ho messo uno uno spray che è quello liquido dell'euro spin per pulire i vetri lo spray dei vetri alla moria a casa deve e il mio portafoglio e l'altro non so l'ho messo ma se ne trovo qu'altra parte o nell'altra borsa infatti questo è quello con le borche bellissimo e c'è un altro portafoglio dove dentro ci tengo solamente spicciolini spicci 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 qua documenti tessera sanitaria carta d'identità e quant'altro e spicci e soldini poi penna una penna un burro cacao e un tacquino che non so neanche dove sia finito in borsa ecco qua questo è la pro sun vedete la pro sun poi un una penna si sta scaricando glielo dicevo che si stava scaricando una penna guardate cosa perché se no non mi lascia a scampo questa telecamera salviettine struccanti no salviettine si struccanti all'acido ialluronico della fresh and clean queste qua sono buone valenti solamente non in questi casi ma per le varie swatch e altre cose anche qua un taccuino un taccuino eccolo qua vedete 2021 dove le 22 eccolo qua si vede si poi una maschera di scorta non siamo anche nell'ordinario bisogno un pacchetto di fazzoletti poi uno specchiettino come quello del mio portafoglio cioè come il disegno del mio portafoglio eccolo qua vedete poi un altro specchietto che non si sa mangio può servire ve lo faccio vedere vedete eccolo qua per non lasciarvi per non farvi da per non darvi fastidio per l'aperto un po vedete eccolo qua poi questo me l'hanno omaggiato me l'hanno regato a sapone profumi eccolo qua poi cos'altro vi è qua altrimenti originizzante delle brosce e make up revolution un rosetto nude color nude molto buono molto colore carne vedete della make up revolution eccoci qua niente ragazzi tutto qui ora mi metto tutto a posto e basta questa era la mia borsa è stata allora ha uno scompartimento che serve questo qui questa sacchetta e poi dentro è così da una parte è fatta così vedete già non si vede così e poi anche dall'altra parte c'è quest'altro scompartimento tutta aperta vedete quella qua per farci vedere così e niente i ganci sono questi particolari vedete molto particolari molto particolari anche qua vedete come fatta così e così ecco qua niente allora intanto nel frattempo metto tutto a posto sempre se non si scarica la macchinetta ovvero la macchina il telefonino ok perfetto c'è altro qui no non mi risulta perfetto quello era questo qui era tutto il mio contenuto che vi era lì dentro e l'ho riposto a posto questa è la mia borsettina con pesce da vedere e niente ragazzi questo era tutto ripetito porto una volta di tanto nel mio in borsa però non tutto porto quando non mi trucco spesso c'è in casa mi trucco quando vuoi uscire di corsa mi trucco ma poco e niente ombretti non me ne metto perché sennò faccio danni mi faccio solo male mi fico qua capelli nell'occhio non fare il caso mi piacciono i capelli come sono oggi appunto che mi sono docciata e usato shampoo più maschera a me piacciono davanti c'è sono fallo un po molli quando devo pettinare però a me piacciono sinceramente già quindi nulla questo era il mio video di what in my bag cosa c'è nella mia borsa e nulla aspettate un attimo vedere un po qua eccolo qua cosa intendevo per portasficci quest'altro che è abbinato abbinato al portafoglio questo della london london appunto londra si vedete londra londra e londra londra queste no questo dovrebbe essere roma se non erro in pare di sì esatto e vabbè comunque questo è tutto quello che vedete voi che vedete voi nel portafoglio e vabbè lo metto qua casomai che ci sono altri spicci lo prelevo i spiccioletti niente questo era tutto comunque trucchi non ne porto perché non mi ritocco il trucco in giro una volta di tanto se devo sennò va bene anche così poi se mangio ancora di meno mi ritocco il trucco non solo di quello che si ritocca il trucco per strada niente ebbene ragazzi se questo video vi è piaciuto mettete un bel like di supporto un commento e iscrivetevi al canale attivate la campanella ciao presto un bacio unico zombie apocalypse